Con l'accusa di associazione per delinquere di tipo mafioso con l'obiettivo di perpetrare una serie di reati gravi, tra cui estorsioni, usure e spaccio di sostanze stupefacenti, le squadre mobili di Catanzaro e Crotone, con il supporto della sezione investigativa di Catanzaro del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, hanno eseguito 12 arresti a Isola Capo Rizzuto nei confronti di altrettanti soggetti vicini alla Cosca Arena. Le indagini condotte dalla DDA di Catanzaro, che in tutto vedono coinvolte 29 persone, tra le quali risulta anche un noto penalista catanzarese e un altro avvocato di Crotone che in passato ha ricoperto incarichi di amministratore pubblico, hanno fatto emergere l'esistenza di una struttura associativa il cui elemento di vertice era ritenuto il soggetto al quale rivolgersi per la risoluzione di varie problematiche, come quella di proteggere un imprenditore isolitano dalle richieste assorsive rivoltagli da esponienti criminali egemoni in altri territori, e al quale era anche demandata la gestione della cosiddetta bacinella, contenente le somme provenienti dalle attività illecite della Cosca Arena, con le quali provvedeva al sostentamento dei carcerati e delle loro famiglie. Nel corso delle investigazioni è emersa inoltre l'ingerenza della Cosca nel meccanismo di procacciamento di voti nel territorio di Isola Capo Rizzuto, in favore di un candidato al Consiglio regionale, alle elezioni tenutesi nell'ottobre del 2021.